Mario Di Quonzo e Giuseppe Cicciu i due macchinisti avevano passato la loro vita sui treni e su un treno sono morti. Catanzaro, ordine dei farmacisti, presentata alla dodicesima cerimonia del caduceo. Inizia la pool promozione per il volley soverato. Buonasera da S1 News. Esperti tra i primi impiegati sull'alta velocità sin dalla sua nascita, benvoluti dai colleghi, avevano passato la loro vita sui treni e su un treno sono morti. Mario Di Quonzo e Giuseppe Cicciu, i due macchinisti alla guida del Frecciarossa, deraiato ieri a Ospedaletto Lodigiano. Per le due nuove vittime del lavoro ha subito espresso il suo cordoglio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, augurandosi che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente. Originali del Sud, Campano di Capo, in provincia di Casetta di Quonzo, Calabrese di Reggio Cicciu erano arrivati in Lombardia da decenni e si erano impegnati con il sindacato per migliorare le condizioni di lavoro di tutti. Residenti nell'Interland milanese lasciano entrambi moglie e un figlio. Cicciu viveva a Cognio Monzese, Di Quonzo invece a Pioltello, proprio la cittadina est del capoluogo Lombardo, dove due anni fa morirono tre persone in un altro tragico incidente ferroviario. Giuseppe Cicciu, 51 anni calabrese di Reggio Calabria, amava questo lavoro, lo svolgeva con serietà impeccabile ed era molto attento alla sicurezza. Ha ricordato Fortunato Foti, ferroviere membro della segreteria lombarda della FIT CSL. Attaccadissimo a Reggio Calabria, dove tornava appena poteva per far visita alla madre, Cicciu aveva iniziato a lavorare sui cargo per poi spostarsi sui treni dell'alta velocità. Lavorava da tanti anni come macchinista e è stato uno dei primi sui nuovi treni dell'alta velocità. Era una persona con grande esperienza, non era certo uno appena arrivato, ha detto il segretario lombardo della FIT CSL Giovanni Abimelec. A nome della città di Reggio Calabria intendo esprimere il più sincero cordoglio nei confronti dei familiari di Giuseppe Cicciu, il macchinista regino morto insieme al collega Mario Di Quonzo nel tragico incidente ferroviario di Lodi, ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata. I carabinieri della compagnia di Palmi, in sinergia con quelli di Desio, Monza e Brianza, hanno arrestato Salvatore Costantino, di 54 anni, condannato in appello per un omicidio commesso nel settembre 2012. I suoi confronti, infatti, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, dopo la condanna, hanno emesso, su richiesta della Procura Generale, un'ordinanza di custodia in carcere. Costantino è stato rintracciato e bloccato a Lissone. L'uomo è stato condannato per l'omicidio di Domenico Ianni ed il tentato omicidio di Evgen Dimov, venuti a seminare al culmine, secondo gli investigatori, di una lite per una servitù di passaggio che ricade tra i fondi comunicanti di Ianni e Costantino. Quest'ultimo, dopo la testimonianza di Dimov, era stato condannato a 30 anni in primo grado, ma assolto dai giudici d'Appello che avevano ritenuto inattendibile dichiarazione del ferito. Il pronunciamento era stato annullato dalla Cassazione che aveva disposto un nuovo processo. Una rete di sismografi sarà installata nei prossimi giorni nell'area della Presila Catanzarese, interessati da uno sciame sismico che sta generando preoccupazioni e disagi nella popolazione interessata. Lo ha reso noto il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, all'indomani della visita nel centro del Catanzarese, del professor Salvatore Stramondo, direttore del centro terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'esperto, ha affermato Zicchinella su Facebook, ha autorizzato lo studio del monitoraggio costante dei movimenti tellurici, malgrado l'intensità delle scosse non abbia superato la magnitudine di 4.5, in modo da acquisire il maggior numero di informazioni sull'evento. Una volta che i dispositivi verranno installati, il professor Stramondo tornerà nel Catanzarese per fare il punto della situazione. Tutto pronto per la dodicesima cerimonia del Caduceo 2020, la festa dei farmacisti voluta dagli ordini professionali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, prevista per l'8 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro. Il servizio. Sabato 8 febbraio, come al solito, come ogni anno del resto, riprendiamo la cerimonia del Caduceo. È una cerimonia per noi molto importante, in quanto andiamo ad accogliere i nuovi iscritti all'albo e andiamo a premiare i farmacisti che hanno raggiunto i 40 anni di professione. Una cerimonia che riassume un po' tutto quello che è l'iter della nostra professione, che ha più di 2.500 anni, diciamo, va stata precisa, non si sa, ma che si è sempre contraddistinta per essere vicino alle esigenze dei cittadini. E lo facciamo in un clima completamente nuovo. Da poco tempo sta partendo la farmacia dei servizi, una farmacia che si differenzia da quella passata, in quanto diventa un terminale intelligenza del Servizio Sanitario Nazionale. È un programma sperimentale che andremo a realizzare in tre anni e poi questi servizi entreranno, se dimostreremo di essere all'altezza di farlo, in maniera precisa e costante in quella che è l'assistenza sanitaria nazionale. Quindi è un momento nuovo, un momento in cui c'è bisogno dell'incontro e della collaborazione di tutti, perché solo insieme potremo raggiungere questi risultati che non si concretizzano così semplicemente facendo delle analisi in farmacia, ma volendo essere sul territorio un punto di riferimento per i cittadini. Quindi una professione nuova, una professione completamente rinnovata che ha bisogno del contributo di tutti. Abbiamo parlato di collaborazione tra le varie discipline, ma soprattutto con le università che dovranno formare la nuova generazione dei farmacisti. Noi ci auguriamo che questo possa essere l'inizio per una formula di assistenza sul territorio completamente innovativa che tenga conto delle esigenze di salute di tutti i cittadini e dove i farmacisti occupano un posto predominante. Purtroppo noi da dieci anni siamo commissariati e non riusciamo ad avere un dialogo costruttivo, quantomeno un dialogo che sia costruttivo, poi i fatti lo diranno, con il commissario straordinario. Noi siamo tra le regioni denominate Canaglia in quanto adoperiamo male i nostri fondi in favore della regione Calabria. Questa disparità è dovuta al fatto che noi siamo degli ammalati con la valigia. Quando abbiamo dei problemi seri andiamo per altri ridi. Noi speriamo attraverso la farmacia dei servizi di ridurre i tempi della migrazione sanitaria e quindi di rivolgere le risorse sul territorio in una maniera più appropriata. Parlare di risorse nuove è inutile parlarne perché direi di essere poco credibile, ma razionalizzare le risorse si può e in questo noi possiamo dare una valida mano e un contributo serio. Le tematiche, a parte quelle più squisitamente di riunione di una categoria o meglio di un settore che è quello sanitario, saranno affrontare almeno quest'anno la tematica e l'antibiotico resistenza. È un tema abbastanza caldo, al netto di quelle che sono le ultime emergenze sanitarie relative al coronavirus, l'antibiotico resistenza è una delle tematiche su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il sistema sanitario europeo sta puntando parecchio perché è uno dei temi caldi nell'ambito della chemioterapia antibiotica. Diciamo che nell'ambito della ricerca ormai la competizione è a livello non tanto nazionale ma internazionale. Devo dire che la Magna Grecia annovera fra il suo personale eccellenze sicuramente in campo nazionale e internazionale. Logicamente è sempre più difficile per quello che sono soprattutto i fondi che abbiamo a disposizione e con i quali dobbiamo andare a confrontarci. È dura ma comunque i cervelli, le teste pensanti ci sono e quindi sicuramente cercheremo di non solo mantenere lo score che abbiamo ma migliorarci sempre di più. Sì, noi siamo partner ormai consolidati di questa importante manifestazione. Dal nostro punto di vista il contributo è abbastanza immediato e speriamo efficace dare a questi ragazzi che si sono brillantemente segnalati per il loro percorso scolastico quelli che sono i nostri strumenti fondamentali di conoscenza e di sapere, il vocabolario e l'Atlante geopolitico. Penso che oggi una biblioteca fondamentale sia fatta proprio da questi due strumenti perché se il lessico è assolutamente indispensabile per qualsiasi rapporto con la lingua e col sapere le conoscenze relative alla geopolitica oggi sono imprescindibili per chiunque voglia dare uno sguardo sul mondo diciamo così e capire in che mondo si trova soprattutto. Dopo due settimane di sosta inizia la seconda fase della stagione per il Volei Soverato. La compagine Biancorosso domenica 9 febbraio alle ore 17 al Palascoppa ospiterà nella prima giornata di andata il Cus Torino. Vediamo il servizio. Inizia ufficialmente la seconda parte di stagione per il Volei Soverato. Domenica prima giornata della pool promozione. Soverato che parte in casa affrontando Cus Torino. Soverato che parte dal terzo posto in questa pool promozione quindi una posizione molto importante. il coach napolitano una partita contro Cus Torino ovviamente che nella prima parte ha disputato le partite nell'altro girone il girone B si è classificata a quinta nel girone B ma non per questo significa che sarà una partita agevole. No agevole in questo giro promozione non c'è nulla. Anzi è una partita secondo me complicata perché loro si sono qualificati nel girone promozione all'ultima giornata quindi saranno un po' ecco sulle aree dell'entusiasmo. Non hanno nulla da perdere perché insomma per loro l'obiettivo credo che sia stato già ampiamente raggiunto considerando quello che erano le vicissitudini di inizio stagione. Quindi giocheremo contro una squadra libera di testa. Per questo motivo ancora di più una partita da affrontare con grande attenzione. Una squadra che comunque non ha delle grandissime idealità ma che gioca bene di squadra e che difende tanto per cui una squadra veramente da prendere con dovute attenzioni. Noi partiamo da un terzo posto che come ho già richiarato non era per nulla scontato assolutamente soprattutto non erano scontati i punti di vantaggio sulla quarta e la quinta. Non sono tantissimi però non sono neanche pochi. Ce li siamo guadagnati con le unghie e con i denti. Non è stato semplice perché comunque questa prima parte di stagione abbiamo voluto lavorare contro alcune avversità. Non ultimo la ripartenza di Silvana per la nazionale ma le ragazze sono state molto bene da sopperire a questa assenza. Il periodo inizia alla Sant'Andrea. Cioè da questo punto di vista devo dire che la squadra ha reagito molto molto bene. Adesso dobbiamo fare un ulteriore sforzo perché il campionato è molto complesso. Siamo rimasti in undici anche se la società ha fatto tutto quello che poteva per cercare di colmare questo gap. Non ci siamo riusciti e quindi dobbiamo accettarlo. Considerando la difficoltà del campionato che ci costringe a viaggiare tanto devo dire che potrebbe essere questo un punto importante da dover gestire. Si arriva a questa partita dopo praticamente due settimane piene di sosta due settimane che hanno permesso al Soverato di ricaricare le batterie come si suol dire ma al contempo sono due settimane di inattività per quanto riguarda le partite ufficiali disputate. Quindi possiamo dare una duplice lettura a queste due settimane di sosta? Più che lettura è un'incognita. Nel senso che in realtà i giorni sono 20 quindi più di due settimane. Purtroppo questo è un problema che ha sempre contraddistinto Vole Soverato in generale o le squadre che lavorano in posti logisticamente un po' più sfavoriti perché ovviamente non riusciamo a fare amichevoli, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ci siamo allenati molto bene e questo è un punto ma sicuramente i 20 giorni di distanza dall'ultimo match potrebbero in qualche misura rappresentare un'incognita nel trovare magari subito il ritmo partita. Torino so che ha fatto un amichevole a Cuneo, le altre squadre, Ravenna, Filotrano, insomma questo comunque in qualche misura ci penalizza però come dico sempre alla fine le avversità fortificano nel senso che se si riesce come abbiamo fatto anche in questi quattro mesi a lavorare anche contro le avversità poi alla fine quello che si ottiene è il rendimento in campo e quindi la capacità magari di giocare contro le avversità che il campo ci pone. Con Giulia Gibertini presentiamo questo primo impegno nella pool a promozione del volley Soverato domenica si parte Sordio in casa contro Torino che si è classificata quinta nell'altro girone ma non per questo un avversario da sottovalutare Soverato che però parte da una posizione ottimale perché è terzo in questa griglia della pool promozione quindi i frutti del tanto lavoro della prima fase adesso si sono tramutati in questa posizione che è importante per voi. Sì buonasera a tutti, che dire finalmente giochiamo perché dopo due settimane di stop finalmente domenica ricominciamo, abbiamo lavorato tanto in queste settimane e siamo molto cariche e soprattutto perché giochiamo poi in casa e che dire del nuovo campionato non c'è da sottovalutare nessuna squadra, sarà una battaglia ogni partita. Presentiamo nel dettaglio questo Custorino che vanta degli elementi giovani ma anche degli elementi esperti della categoria quindi un mix giusto, una squadra ostica che fa sudare molto gli avversari. Sì come ogni anno il Custorino fa sudare tutti quindi ci dovremmo rimboccare le maniche e sì c'è il palleggiatore, l'opposto e i centrali e anche le bande diciamo che sono esperte quindi direi che sarà un gran match. Per quanto riguarda la condizione psicofisica della squadra, una squadra che è vero non disputa partita da oltre due settimane però al contempo ha avuto modo di allenarsi bene e ha ricaricato le batterie dopo le fatiche della prima fase. Sì abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo lavorato tanto sia in palestra pesi che in palestra e siamo cariche per questo inizio di nuovo campionato. E con questo è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'agurio di una buona serata. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97 e 3. La Mezzia Terme, Costa Tirrenica, località comuni condomini, FM 99 e 9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98 e 5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97 e 3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106 e 100. Radio Amica in blu. Amica in blu. Le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu. Tutta la musica che gira intorno. Mario di Quonzo. E' Giuseppe Cicciu. I due macchinisti avevano passato la loro vita sui treni e su un treno sono morti. Catanzaro, ordine dei farmacisti, presentata la dodicesima cerimonia del Caduceo. Inizia la pool promozione per il volley soverato. Buonasera da S1 News. Esperti tra i primi impiegati sull'alta velocità sin dalla sua nascita, benvoluti dai colleghi, avevano passato la loro vita sui treni e su un treno sono morti Mario di Quonzo e Giuseppe Cicciu, i due macchinisti alla guida del Frecciarossa deraiato ieri a Ospedaletto Lodigiano. Per le due nuove vittime del lavoro ha subito espresso il suo cordoglio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, augurandosi che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente. Originali del Sud, Campano di Capo, in provincia di Caserta di Quonzo, Calabrese di Reggio Cicciu, erano arrivati in Lombardia da decenni e si erano impegnati con il sindacato per migliorare le condizioni di lavoro di tutti. I residenti nell'Interland milanese lasciano entrambi moglie e un figlio, Cicciu viveva a Cognio Monzese, di Quonzo invece a Pioltello, proprio la cittadina est del capoluogo Lombardo, dove due anni fa morirono tre persone in un altro tragico incidente ferroviario. Giuseppe Cicciu, 51 anni calabrese di Reggio Calabria, amava questo lavoro, lo svolgeva con serietà impeccabile ed era molto attento alla sicurezza. Ha ricordato Fortunato Foti, ferroviere e membro della segreteria lombarda della Fit CSL. Attaccadissimo a Reggio Calabria, dove tornava appena poteva per far visita alla madre, Cicciu aveva iniziato a lavorare sui cargo per poi spostarsi sui treni dell'alta velocità. Lavorava da tanti anni come macchinista e è stato uno dei primi sui nuovi treni dell'alta velocità. Era una persona con grande esperienza, non era certo uno appena arrivato, ha detto il segretario lombardo della Fit CSL Giovanni Abimelec. A nome della città di Reggio Calabria intendo esprimere il più sincero cordoglio nei confronti dei familiari di Giuseppe Cicciu, il macchinista regino morto insieme al collega Mario Di Conso nel tragico incidente ferroviario di Lodi, ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata. I carabinieri della compagnia di Palmi, in sinergia con quelli di Desio, Monza e Brianza, hanno arrestato Salvatore Costantino, di 54 anni, condannato in appello per un omicidio commesso nel settembre 2012. I suoi confronti, infatti, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, dopo la condanno, hanno emesso, su richiesta della Procura Generale, un'ordinanza di custodia in carcere. Costantino è stato rintracciato e bloccato a Lissone. L'uomo è stato condannato per l'omicidio di Domenico Ianni ed il tentato omicidio di Evgen Dimov venuti a seminare al culmine, secondo gli investigatori, di una lite per una servitù di passaggio che ricade tra i fondi comunicanti di Ianni e Costantino. Quest'ultimo, dopo la testimonianza di Dimov, era stato condannato a 30 anni in primo grado, ma assolto dai giudici d'Appello che avevano ritenuto inattendibile le dichiarazioni del ferito. Il pronunciamento era stato annullato dalla Cassazione che aveva disposto un nuovo processo. Una rete di sismografi sarà installata nei prossimi giorni nell'area della Presila Catanzarese interessati ad uno sciame sismico che sta generando preoccupazioni e disagi nella popolazione interessata. Lo ha reso noto il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, all'indomani della visita nel centro del Catanzarese del professor Salvatore Stramondo, direttore del centro terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'esperto, ha affermato Zicchinella su Facebook, ha autorizzato lo studio e il monitoraggio costante dei movimenti tellurici, malgrado l'intensità delle scosse non abbia superato la magnitudine di 4.5 in modo da acquisire il maggior numero di informazioni sull'evento. Una volta che i dispositivi verranno installati, il professor Stramondo tornerà nel Catanzarese per fare il punto della situazione. Tutto pronto per la dodicesima cerimonia del Caduceo 2020, la festa dei farmacisti voluta dagli ordini professionali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, prevista per l'8 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro. Il servizio. Sabato 8 febbraio, come al solito, come ogni anno del resto, riprendiamo la cerimonia del Caduceo. È una cerimonia per noi molto importante in quanto andiamo ad accogliere i nuovi iscritti all'albo e andiamo a premiare i farmacisti che hanno raggiunto i 40 anni di professione. Una cerimonia un po' che riassume un po' tutto quello che è l'iter della nostra professione che ha più di 2.500 anni, diciamo, la data precisa non si sa, ma che si è sempre contraddistinta per essere vicino alle esigenze dei cittadini e lo facciamo in un clima completamente nuovo. Da poco tempo sta partendo la farmacia dei servizi, una farmacia che si differenzia da quella passata in quanto diventa un terminale intelligenza del Servizio Sanitario Nazionale. È un programma sperimentale che andremo a realizzare in tre anni e poi questi servizi entreranno, se dimostreremo di essere all'altezza di farlo, in maniera precisa e costante in quella che è l'assistenza sanitaria nazionale. Quindi è un momento nuovo, un momento in cui c'è bisogno dell'incontro e della collaborazione di tutti perché solo insieme potremo raggiungere questi risultati che non si concretizzano così semplicemente facendo delle analisi in farmacia, ma volendo essere sul territorio un punto di riferimento per i cittadini. Quindi una professione nuova, una professione completamente rinnovata che ha bisogno del contributo di tutti. Abbiamo parlato di collaborazione tra le varie discipline, ma soprattutto con le università che dovranno formare la nuova generazione dei farmacisti. Noi ci auguriamo che questo possa essere l'inizio per una formula di assistenza sul territorio completamente innovativo che tenga conto delle esigenze di salute di tutti i cittadini e che dove i farmacisti occupano un posto predominante. Purtroppo noi da dieci anni siamo commissariati e non riusciamo ad avere un dialogo costruttivo, quantomeno un dialogo che sia costruttivo, poi i fatti lo diranno, con il commissario straordinario. Noi siamo tra le regioni denominate Canaglia in quanto adoperiamo male i nostri fondi in favore della regione Calabria. Questa disparità è dovuta al fatto che noi siamo degli ammalati con la valigia. Quando abbiamo dei problemi seri andiamo per altri ridi. Noi speriamo attraverso la farmacia dei servizi di ridurre i tempi della migrazione sanitaria e quindi di rivolgere le risorse sul territorio in una maniera più appropriata. Parlare di risorse nuove è inutile parlarne perché direi di essere poco credibile, ma razionalizzare le risorse si può e in questo noi possiamo dare una valida mano e un contributo serio. Le tematiche, a parte quelle più squisitamente di riunione di una categoria o meglio di un settore che è quello sanitario, saranno affrontare almeno quest'anno la tematica e l'antibiotico a resistenza. È un tema abbastanza caldo, al netto di quelle che sono le ultime emergenze sanitarie relative al coronavirus, l'antibiotico a resistenza è una delle tematiche su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il sistema sanitario europeo sta puntando parecchio perché è uno dei temi caldi nell'ambito della chemioterapia antibiotica. Diciamo che nell'ambito della ricerca ormai la competizione è a livello non tanto nazionale ma internazionale. Devo dire che la Magna Grecia annovera fra il suo personale eccellenze sicuramente in campo nazionale e internazionale. Logicamente è sempre più difficile per quello che sono soprattutto i fondi che abbiamo a disposizione e con i quali dobbiamo andare a confrontarci. È dura ma comunque i cervelli, le teste pensanti ci sono e quindi sicuramente cercheremo di non solo mantenere lo score che abbiamo ma migliorarci sempre di più. Sì, noi siamo partner ormai consolidati di questa importante manifestazione. Dal nostro punto di vista il contributo è abbastanza immediato e speriamo efficace dare a questi ragazzi che si sono brillantemente segnalati per il loro percorso scolastico, quelli che sono i nostri strumenti fondamentali di conoscenza e di sapere, il vocabolario e l'Atlante Geopolitico. Penso che oggi una biblioteca fondamentale sia fatta proprio da questi due strumenti perché se il lessico è assolutamente indispensabile per qualsiasi rapporto con la lingua e col sapere, le conoscenze relative alla geopolitica oggi sono imprescindibili per chiunque voglia dare uno sguardo sul mondo, diciamo così, e capire in che mondo si trova soprattutto. Dopo due settimane di sosta inizia la seconda fase della stagione per il Volley Soverato. La compagine Biancorosso domenica 9 febbraio alle ore 17 al Palascoppa ospiterà nella prima giornata di andata il Cus Torino. Vediamo il servizio. Inizia ufficialmente la seconda parte di stagione per il Volley Soverato, domenica prima giornata della pool promozione, Soverato che parte in casa affrontando Cus Torino, Soverato che parte dal terzo posto in questa pool promozione, quindi una posizione molto importante, coach napolitano. Una partita contro Cus Torino ovviamente che nella prima parte ha disputato le partite nell'altro girone, il girone B, si è classificata quinta nel girone B, ma non per questo significa che sarà una partita agevole. No, agevole in questo giro promozione non c'è nulla. Anzi, è una partita secondo me complicata perché loro si sono qualificati nel girone promozione all'ultima giornata, quindi saranno un po' sulle aree dell'entusiasmo. Non hanno nulla da perdere perché per loro l'obiettivo credo che sia stato già ampiamente raggiunto, considerando quello che erano le vicissitudini di inizio stagione, quindi giocheremo contro una squadra libera di testa. Per questo motivo ancora di più una partita da affrontare con grande attenzione, una squadra che comunque non ha delle grandissime idealità ma che gioca bene di squadra e che difende tanto, per cui una squadra veramente da prendere con dovute attenzioni. Noi partiamo da un terzo posto che come ho già richiarato non era per nulla scontato, assolutamente, soprattutto non erano scontati i punti di vantaggio sulla quarta e la quinta. Non sono tantissimi però non sono neanche pochi, ce li siamo guadagnati con le unghie e con i denti. Non è stato semplice perché comunque questa prima parte di stagione abbiamo voluto lavorare contro alcune avversità, non ultimo la ripartenza di Silvana per la nazionale, ma le ragazze sono state molto bene da sopperire a questa assenza. Il periodo inizia alla Sant'Andrea. Da questo punto di vista devo dire che la squadra ha reagito molto bene. Adesso dobbiamo fare un ulteriore sforzo perché il campionato è molto complesso. Siamo rimasti in 11, anche se la società ha fatto tutto quello che poteva per cercare di colmare questo gap, non ci siamo riusciti e quindi dobbiamo accettarlo. Considerando la difficoltà del campionato che ci costringe a viaggiare tanto, devo dire che potrebbe essere questo un punto importante da dover gestire. Si arriva a questa partita dopo praticamente due settimane piene di sosta, due settimane che hanno permesso al Soverato di ricaricare le batterie, come si suol dire, ma al contempo sono due settimane di inattività per quanto riguarda le partite ufficiali disputate. Quindi possiamo dare una duplice lettura a queste due settimane di sosta? Più che lettura è un'incognita, nel senso che in realtà i giorni sono 20, quindi più di due settimane. Purtroppo questo è un problema che ha sempre contraddistinto Vole Soverato in generale o le squadre che lavorano in posti logisticamente un po' più sfavoriti, perché ovviamente non riusciamo a fare amichevoli, ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo allenati molto bene e questo è un punto, ma sicuramente i 20 giorni di distanza dall'ultimo match potrebbero in qualche misura rappresentare un'incognita nel trovare magari subito il ritmo partita. Torino so che ha fatto un amichevole a Cuneo, le altre squadre, Ravenna, Filotrano, insomma, questo comunque in qualche misura ci penalizza, però come dico sempre, alla fine le avversità fortificano, nel senso che se si riesce, come abbiamo fatto anche in questi quattro mesi, a lavorare anche contro le avversità, poi alla fine quello che si ottiene è il rendimento in campo e quindi la capacità magari di giocare contro le avversità che il campo ci pone. Con Giulia Gibertini presentiamo questo primo impegno nella pull a promozione del volle Soverato, domenica si parte, Sordio in casa contro Torino, che si è classificata quinta nell'altro girone, ma non per questo un avversario da sottovalutare, Soverato che però parte da una posizione ottimale perché è terzo in questa griglia della pull promozione, quindi i frutti del tanto lavoro, della prima fase, adesso si sono tramutati in questa posizione che è importante per voi. Sì, buonasera a tutti, che dire, finalmente giochiamo perché dopo due settimane di stop finalmente domenica ricominciamo, abbiamo lavorato tanto in queste settimane e siamo molto cariche e soprattutto perché giochiamo poi in casa e che dire, del nuovo campionato non c'è da sottovalutare nessuna squadra, sarà una battaglia ogni partita. Presentiamo nel dettaglio questo Custorino che vanta degli elementi giovani ma anche degli elementi esperti della categoria, quindi un mix giusto, una squadra ostica che fa sudare molto gli avversari. Sì, come ogni anno il Custorino fa sudare tutti, quindi ci dovremmo rinvocare le maniche. Sì, c'è il palleggiatore, l'opposto e i centrali e anche le bande diciamo che sono esperte, quindi direi che sarà un gran match. Per quanto riguarda la condizione psicofisica della squadra, una squadra che è vero non disputa partite da oltre due settimane, però al contempo ha avuto modo di allenarsi bene e ha ricaricato le batterie dopo le fatiche della prima fase. Sì, abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo lavorato tanto sia in palestra pesi che in palestra e siamo cariche per questo inizio di nuovo campionato. E con questo è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti!